questa è la segreteria delle emergenze che adesso sta si sta occupando dell'emergenza coronavirus qui riceviamo tutti gli ordini le telefonate dove ci richiedono la spesa si compone il massimo di tre persone con la dimensione della stanza questa invece è la centrale operativa com che è la centrale operativa mista dove vengono gestite le emergenze più grosse più importanti dove sono presenti anche gli altri comuni che fanno poi capo al comune di verbania questa è la centrale ci sono oggi come oggi sono nove telefoni perché nove sono le componenti ai quali è destinata la sala ma presto diventeranno 11 e da qui viene gestita tutta l'emergenza a livello organizzativo per la protezione civile di verbania come è organizzato il vostro lavoro il nostro lavoro è organizzato noi siamo protezione civile comunale di verbania è organizzato io sono il coordinatore abbiamo siamo partiti con 15 volontari nell'arco di una settimana siamo arrivati a 35 e continuano avere domande abbiamo fatto un gruppo che si occupa solo della segreteria e poi abbiamo gli altri volontari che in questa occasione viene vengono fatti dei turni per non fare assemblamenti e non avere qua troppa gente c'è troppi volontari e riceviamo gli ordini delle spese noi mandiamo i volontari a fare la spesa e poi consegniamo o croce verde o croce vostra in alcuni casi consegniamo anche noi i volontari hanno l'ordine tassativo di non entrare in casa per cui rimanere al portone di casa consegnare la spesa questa viene pagata ai volontari e questo è quanto per quanto riguarda questa emergenza finché tempo è brutto abbiamo ricevuto parecchi quando c'è il sole anche se la gente dovrebbe stare a casa purtroppo tende ad uscire però abbiamo sempre ordini e continuiamo a fare il nostro lavoro insomma dobbiamo cercare di convincere la gente di stare a casa e contattarci che facciamo i nostri servizi